Onorevole Giacchetti, non vorrei mancare l'occasione di dare soddisfazione al collega Bonanno per prendere la parola, però io sono seriamente preoccupato e angosciato dalle dichiarazioni che ha fatto l'onorevole Bonanno, soprattutto all'inizio del suo intervento, signor Presidente, perché se le cose che l'onorevole Bonanno ha detto sono vere, si è trattato, ancorché in età, diciamo, giovane, di una effettiva persecuzione nei confronti del deputato Bonanno. Quindi io la pregherei, signor Presidente, lo sto dicendo sul serio, la mia preoccupazione è viva perché noi siamo nella Camera dei Deputati, dobbiamo rispettare il nostro, dobbiamo, vorrei finire il mio intervento senza essere interrotto, quindi non solo, signor Presidente, io voglio esprimere la mia, non posso impegnare il gruppo, però essendo in aula voglio esprimere la mia personale solidarietà all'onorevole Bonanno per la persecuzione che ha subito e mi riservo nelle prossime ore di valutare, di presentare una proposta di legge per una commissione di inchiesta che possa accertare se effettivamente quella persecuzione abbia limitato l'evoluzione della possibilità, diciamo, anche lavorativa e professionale dell'onorevole Bonanno. Grazie onorevole Reguzzoni.